Buonasera a tutti, sono molto contento di rivolgervi un saluto, mi scuso se dovrò andare via ma abbiamo un comitato esecutivo che inizia tra pochi minuti alle 18.30 e questo incontro avviene anche per noi in un giorno particolare perché ieri Treccani ha festeggiato 95 anni e quindi è importante avervi ospitato, devo dire che è stata Lucrezia Ruggi d'Aragona a parlarmi, io ho accettato subito con piacere di dar vita a questo incontro che ha un tema importante, il collezionismo delle banchie, importante per molti motivi perché questi patrimoni culturali sono patrimoni importanti, le loro storie sono importanti, chi li ha messi insieme sono figure da ricordare e importanti anche per il ruolo che giocano non solo le banche ma le fondazioni bancarie un ruolo dal mio punto di vista essenziale nella vita del nostro paese, un ruolo appunto sociale, un ruolo assistenziale ma soprattutto un ruolo di promozione culturale, le fondazioni bancarie sono molto vicine a Treccani, lo sono alcune di loro come soci ma anche quelle fondazioni che non sono soci devo dire ci aiutano moltissimo nel nostro compito di cercare di valorizzare e diffondere il ruolo della cultura italiana. Questo e le collezioni d'arte è sicuramente un ambito importante se ne discute spesso, mi capita anche di essere invitato a discuterne e di sicuro sono collezioni di grandissimo valore. Sono anche come dire collezioni che in qualche misura credo andrebbero tutelate, andrebbero conservate a quel patrimonio che non solo fa parte della nazione come dice il nostro articolo 9 della Costituzione ma costituiscono sicuramente come dire un momento importante proprio nella formazione del cittadino e in questo compito questa consapevolezza che fondazioni bancarie e banche hanno svolto e io mi auguro continuino a svolgere lo trovo appunto particolarmente essenziale nel nostro paese. Ma un punto forse il più delicato soprattutto verso il mondo degli storici dell'arte e dell'accademia credo che sia molto importante e verrà discusso in questo incontro è proprio il rapporto tra pubblico e privato. Rapporto sicuramente a cui bisogna fare molta attenzione ma secondo me il modo in cui le fondazioni bancarie hanno interpretato questo ruolo e questa missione è uno di quegli esempi da guardare con maggiore attenzione perché è un ruolo sempre rispettoso del valore del patrimonio culturale e un ruolo volto appunto a far conoscere a far divulgare nel modo più corretto possibile il nostro patrimonio e hanno svolto questo spesso anche affiancando nel modo migliore quelle che sono le strutture prime incaricate di svolgere questo ruolo che è il Ministero dei beni culturali in tutte le sue strutture. In questo credo che la dialettica con sovrintendenze sia importante, credo che il Ministero svolga io lo ripeto in tutti i luoghi non è per nulla un luogo appunto di limitazione verso la valorizzazione ma è un luogo appunto un presidio di attenzione su tutto il territorio nazionale e quindi credo che insomma sia giusto che questo primo incontro si svolga in Treccani e con molto piacere e qualche difficoltà festeggiamo 95 anni, siamo nati nel 25 con questa ancora oggi veniamo legati all'enciclopedia ma io ricordo sempre che questa nostra missione è una missione assai complessa, siamo chiamati a tutelare la cultura italiana che è uno dei primi compiti che ci vengono affidati. Ci viene affidato anche quello di valorizzare la memoria storico-artistica del Paese, altra cosa, altra intuizione secondo me importante e tra i suoi compiti c'era anche la formazione di una classe dirigente, non rimpiango ovviamente quei momenti, quei tempi ma credo che fossero tre maniere importanti di leggere il ruolo delle istituzioni e anche la capacità di avere visione di un Paese, di un Paese appunto che si stava formando, si doveva appunto anche articolare nella maniera migliore e a Treccani veniva data questa responsabilità. L'enciclopedia era lo strumento per raggiungere questi obiettivi. Potete capire che oggi ci chiediamo quali debbano essere gli strumenti e se quegli obiettivi possono essere attualizzati. Sicuramente quello del patrimonio storico-artistico è uno dei temi su cui lavoriamo da più negli ultimi 50 anni, lavoriamo con dei libri, lavoriamo sul nostro portale, oggi abbiamo aperto un cantiere dedicato proprio all'arte contemporanea che è uno dei linguaggi sicuramente anche più sensibili nei confronti dei giovani. Insomma poche parole per dirvi che sono davvero orgoglioso che abbiate scelto tutti. Mi emoziona e ho detto ad Andreina Draghi pensare che in queste stanze ha lavorato suo padre. E insomma è stata una comunità importante, ci piacerebbe che continuasse a esserlo. Dicevo che con molte delle persone che partecipano sono grato della loro amicizia, Francesco Profumo per tutti, è vicinissimo da sempre alle sorti dell'enciclopedia e io lo ringrazio. Mi scuso ancora se non mi potrò fermare però credo insomma che questa è una sede sempre aperta a tutte le forme, a tutti i soggetti che in qualche modo vogliano contribuire come fate voi alla tutela del nostro patrimonio. Grazie ancora. Do la parola ad Adriano Larigina. Buonasera, due parole solo per ringraziare l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, il direttore Massimo Brahi e Andreina Draghi per aver organizzato questo incontro sul patrimonio artistico, sul collezionismo delle banche. Si tratta, come è stato già detto dal direttore Brahi, di un patrimonio rilevantissimo. Io naturalmente nella mia attività di soprintendenza ho avuto molte occasioni di occuparmene, soprattutto per la parte archeologica. Occasioni di non solo di tutela ma anche di studio, di ricerca, sempre molto fruttuose. Ricordo due esempi importanti, ce ne saranno altri certamente ma questi sono diciamo quelli di cui mi sono occupato in particolare. Uno riguarda un'eccezionale opera d'arte, un rilievo di Antino scolpito da Antoniano di Afrodisia, quindi un'opera di età adrianea diciamo, che è proprietà dell'Istituto Bancario Italiano, poi Cariplo, che è stato affidato al Museo Nazionale Romano e ora esposto in Palazzo Massimo, al secondo piano, per un'intesa comune di favorirne diciamo la fruizione da parte del pubblico. Quindi l'opera d'arte resta nella sua proprietà legittima ed è al tempo stesso pienamente fruibile dai visitatori e anche curata diciamo dal museo. Questa fu un'intesa utile per entrambe le parti e poi è stata seguita anche da un'altra occasione simile con la Banca Nazionale del Lavoro che si è concretizzata recentemente, ma io me ne ero occupato quando era presidente Nerionesi ed esattamente per un gruppo di sculture molto belle e importanti di cui chiedevamo la possibilità di un'esposizione eventualmente anche temporanea nel Museo Nazionale Romano. Poi dopo per vicende varie cambiò la presidenza eccetera, la cosa non andò avanti, ma è stata ripresa in mesi recenti. Adesso queste sculture sono esposte a Palazzo Altemps, da parte del Museo Nazionale Romano, in un contesto bellissimo e con grande rilievo direi perché a ognuna di queste cinque sculture è assegnata una sala interamente per sé e quindi sono destinate al pubblico. Per ora l'intesa è di un prestito, un deposito per cinque anni ma rinnovabile, speriamo che questo avvenga. Io credo che in molti casi, certamente non in tutti, questa possa essere una utilissima soluzione di collaborazione fra appunto l'amministrazione statale preposta alla cura, alla conservazione di questi beni e la proprietà privata. Devo dire che per esempio nel caso ultimo che ho ricordato della Banca Nazionale del lavoro, queste sculture poi sono state presso il museo anche accuratamente restaurate e è stato restituito loro diciamo uno splendore che il tempo aveva un po' offuscato. Insomma io credo che questo modello di collaborazione che può andare anche nelle due direzioni, insomma non vi sono per esempio anche esempi di concessione da parte delle amministrazioni statali a istituti privati, naturalmente di grande rilevanza, prestiti di opere d'arte. Insomma quindi diciamo una collaborazione fruttuosa che abbia la finalità di rendere questi beni più facilmente accessibili al pubblico, ecco non per segregarli in qualche stanza inaccessibile e anche di favorirne lo studio, la ricerca scientifica sul patrimonio artistico e a questo proposito io vorrei ricordare che il nostro istituto, l'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte ha diciamo una vocazione in questo senso esercitata per molti anni anche attraverso borse di studio ora purtroppo le borse di studio sono diventate sia nelle università sia insomma anche presso altri istituti di ricerca qualcosa sempre più rara e difficilmente accessibile per i giovani studiosi ma anche questo potrebbe essere per esempio un modo per favorire e incentivare la ricerca io insomma adesso ringrazio l'Istituto per l'Enciclopedia Italiana e tutti i convenuti in questo incontro e soprattutto Andreina Draghi per quello che ora ci dirà. Grazie Buonasera a tutti, grazie per essere qui così numerosi, grazie al direttore, grazie all'Enciclopedia Italiana che ci ha dato questa bella ospitalità e grazie anche a Fabiana Di Donato, Anna Profumo, Lucrezia, Ruggi d'Aragona e Alida Tua che hanno organizzato questo incontro e anche per averlo organizzato e preparato con tanto entusiasmo questo di stasera è la prima di una serie di conversazioni sul collezionismo d'arte le altre riguarderanno le collezioni degli istituti nazionali che sono molto rilevanti ma davvero assolutamente direi sconosciute delle accademie e poi infine il ciclo chiuderà con una riflessione invece sul collezionismo privato dunque come in parte è già stato anticipato non c'è campo della cultura vuoi arte, vuoi storia, vuoi editoria vuoi anche spettacolo che in questi ultimi decenni non abbia intessuto una relazione con gli istituti di credito la politica culturale delle banche in questi decenni è stata ed è capillare ma davvero ramificata su tutto il territorio nazionale al punto che effettivamente possiamo parlare di una galassia di interventi certo, si dirà, è naturale, le banche per tradizione hanno sempre avuto questa consuetudine da sempre sono state sostenitrici, sollecitatrici di artisti, promotrici culturali e da sempre hanno avuto collezioni basti pensare ai bardi che commissionano a giotto gli affreschi della cappella omonima, ai medici naturalmente il cui banco chiuderà nel 1494 e saranno sostituiti dai fugger internazionalmente tra l'altro ad Agostino Chigi che grazie alle ricchezze accumulate con lo sfruttamento delle miniere di allume di tolfa poté commissionare a Raffaello gli affreschi della Farnesina o ancora al Monte dei Paschi di Siena che nel 1481 commissiona a Benvenuto di Giovanni del Guasta un pittore allora assai noto e molto ben inserito nella vita della città e commissiona l'affresco della Vergine della Misericordia che accoglie sotto il suo manto e protegge tutti i senesi quindi ricordando sia ai committenti che ai clienti la funzione sociale del monte quindi sia per tradizione sia per una politica di acquisizioni fatta durante gli anni sia per la politica degli ultimi decenni delle fusioni e delle incorporazioni le banche hanno collezioni molto rilevanti sia in termini di qualità che in termini di quantità e adesso cito a braccio alcuni numeri e mi scuso per l'elenco ma è solo per rendere conto proprio della consistenza del patrimonio e anche della consistenza delle iniziative culturali che hanno adottato Banca Intesa possiede più di 500 reperti archeologici 460 icone datate tra il XIII e il XIX secolo provenienti dal Banco Ambrosiano e più di 500 dipinti tra cui il Martirio di Sant'Orsola di Caravaggio 3500 opere grafiche e la collezione di arte moderna molto molto omogenea perché di 3000 opere che rappresenta tutte le correnti artistiche italiane BNL Paribas più di 5000 opere Unicredit ne possedeva 60.000 divise nei tre rami austriaco, tedesco e italiano e in parte è stata battuta all'asta da Cristis nell'autunno scorso BNL l'ho detto più di 6000 e poi UbiBanca più di 6500 frutto delle raccolte confluite delle altre banche confluite in UbiBanca quindi in questo caso con collezioni molto diciamo disomogenee perché c'è il rinascimento Lombardo-Veneto che proviene ovviamente dal San Paolo di Brescia dalla Popolare di Bergamo e poi è molto ben rappresentato il meridione italiano del Seicento con Battistello Caracciolo ed è molto rilevante anche qui la collezione di arte moderna con opere di Soluit, di Afro, di Paolini, di Jan Pimmei, di Anish Kapoor quindi molto molto rilevante il dato primo delle collezioni è che in origine avevano tutte un carattere molto territoriale nel senso che riflettevano perfettamente la cultura artistica del territorio su cui era la banca carattere questo che appunto anche soprattutto perché per tanti cambiamenti sociali ma anche per le fusioni si è perso ha vantaggio però di un carattere decisamente internazionale certo una raccolta una collezione possedere una collezione per una banca incrementa in modo positivo l'immagine è generatrice di fiducia ed è in definitiva la testimonianza migliore della serietà della banca nell'amministrare il suo patrimonio e nell'amministrare anche il patrimonio degli stessi clienti però è anche portatrice di un messaggio valoriale perché esporre nelle sale dell'istituto le opere della propria collezione organizzare manifestazioni culturali intorno ad esse crea sicuramente un ambiente stimolante intellettualmente sia per chi vi lavora naturalmente che per gli stessi visitatori ed è la filosofia dell'artworks inaugurata tra la fine degli anni 70 e inizi anni 80 dalla Deutsche Bank ed esportata poi in ben 43 paesi il momento di grande cambiamento nella gestione e nella valorizzazione delle collezioni avviene nella seconda metà del novecento direi anni 80 soprattutto 70-80 perché le collezioni escono allo scoperto letteralmente in origine erano in fondo considerate soltanto un'occasione di prestigio anche e oggetto di poche e selezionate visite al contrario dicevo appunto escono completamente allo scoperto infatti non è un caso che i cataloghi delle collezioni iniziano ad essere stampati dai tardi anni 70 e poi con un ACME negli anni 90-2000 e accanto però alle collezioni cambia anche il ruolo delle banche perché inizialmente le banche sono soltanto quasi sono viste direi proprio sono considerate esclusivamente ecco sono considerate esclusivamente per un sostegno finanziario ad un'iniziativa culturale e in realtà in un tempo molto rapido conquistano un loro ruolo progettuale diventano esse stesse ideatrici di premi di bandi di mostre e addirittura anche di poli museali penso appunto ai tre poli di banca intesa con Napoli, Palazzo Zavaios, Stigliano a Vicenza, Leone e Montanari e poi appunto a Milano e in questo sull'apertura al pubblico e la creazione di musei le fondazioni anche hanno fatto tantissimo penso solo a Fondazione Roma e a Palazzo Sciarra qui accanto e dicevo appunto che conquistano questo ruolo progettuale e accanto al museo fisico nasce il museo virtuale quasi tutti gli istituti di credito hanno un catalogo online che è consultabile attraverso anche percorsi diversi per autori, per materia ed è del 2013 l'iniziativa MUVIR museo virtuale voluta da ABI e da ACRI che consiste nel mettere online il patrimonio di tutti gli istituti quindi parliamo di un'esposizione di più di 300.000 opere accanto a questo bisogna ricordare i prestiti numerosissimi negli anni 90 le banche prestavano si prestavano però prestavano con una certa riluttanza non c'era quella cooperazione stretta quella collaborazione stretta tra organismi pubblici e loro stesse e voglio solo ricordare per dare un numero che nella mostra del 2013 a Bologna la grande magia che si è svolta al Mambo Unicredit ha partecipato prestando 90 opere quindi questo è altrettanto ha fatto BNL Paribas per un'altra mostra al Maxi The Seas My Land accanto ai prestiti i comodati come ha ricordato il professor La Regina i comodati che sono anche questi molto frequenti adesso Unicredit ha prestato ha concesso al Mart al Macro al Macro a Roma sono conservate le opere di Stefano Arienti di Nicola Pellegrini l'installazione di Daniel Buren e poi ancora vorrei ricordare la manifestazione Invito a Palazzo che ha quasi 20 anni e che consente la prima settimana di ottobre di visitare le sedi storiche delle banche le sedi moderne con pregi architettonici e dal 2015 anche le sedi delle fondazioni tra l'altro per sottolineare il ruolo progettuale nel comodato concesso a Palazzo Altemps da parte di BNL BNL ha commissionato anche a Luigi Spina una mostra fotografica sull'imperfezione della bellezza e che quindi consente una lettura completamente diversa perché Spina dà una lettura diversa della statuaria classica e poi ancora vorrei ricordare appunto come ho detto l'invito a Palazzo a cui è abbinato un concorso forse non tutti lo sanno questo un concorso destinato agli studenti delle accademie di belle arti e degli istituti di design per la realizzazione dell'immagine migliore e ancora poi numerosissime sono le partnership ma qui l'elenco è davvero lunghissimo e non vi risparmio mi limito semplicemente a dire che per la lunghezza di questa collaborazione che Unicredit è main partner di Artissima la fiera di arte contemporanea che si svolge a Torino da quasi vent'anni BNL da quasi dieci anni è main sponsor di Mia Photo Fair quindi insomma da questo che ho cercato di riassumere in effetti appare un'immagine bella di buona collaborazione di una società aperta di collaborazione tra pubblico e privato molto stretta e in questo senso allora quello che era l'augurio di Gianni Zandano presidente dell'istituto San Paolo si è verificato perché in un'intervista in una bella intervista rilasciata al giornale dell'arte Zandano diceva che per un istituto che volesse entrare nel mondo culturale assolutamente non doveva fare beneficenza culturale ma doveva creare centri di eccellenza e soprattutto progettualità a me sembra che questo in questi decenni sia stato in parte fatto che la strada sia stata segnata percorsa anche in parte e mi auguro che lo sia anche per il futuro grazie cedo la parola al professor Profumo presidente dell'associazione fondazioni e casse di risparmio italiane nonché presidente della compagnia San Paolo ministro con il governo Monti dell'istruzione dell'università e della ricerca con l'innovazione anche con la delega all'innovazione tecnologica presidente del consiglio nazionale delle ricerche e magnifico rettore del Politecnico di Torino vediamo se riesco benissimo innanzitutto permettetemi di ringraziarvi e di ringraziare in particolare la dottoressa Draghi per l'invito e per aver organizzato un evento di questo tipo in questo luogo a volte c'è una dicotomia tra i contenuti e i luoghi e credo che invece in questo caso ci sia una perfetta sintonia quindi questo fa parte di questa capacità delle persone di organizzare eventi che hanno nella sostanza certamente un grande valore ma anche nella forma quindi la ringrazio molto per aver fatto questo per aver avuto questa intuizione e per aver dato luogo a questo evento debbo incominciare con un elemento credo che solo alcuni di voi sappiano che alla fine all'inizio degli anni 90 negli anni 90 91 ci fu nel nostro paese una lunga discussione relativamente al fatto che le banche avevano due anime un'anima business e un'anima della filantropia o della beneficenza allora si diceva in termini più consueti soprattutto questo era avvenuto per le casse di risparmio e quindi due persone con una grandissima sensibilità il presidente Ciampi e il presidente Amato sono i primi firmatari della legge che ha istituito le fondazioni bancarie ancora oggi le fondazioni che sono dei soggetti giovani non hanno ancora 30 anni ma sono ormai maggiorenni nel nel sentire delle persone hanno una stretta relazione con le banche a volte si confondono a volte si sostituiscono nella realtà le fondazioni sono un qualche cosa di completamente diverso c'era stata questa integrazione nel nel corso dei secoli tra la filantropia e il business e allora si decise anche su un'indicazione della della Commissione Europea che questo avrebbe dovuto essere separato per quanto questa sera nonostante il tema centrale sia quello delle collezioni delle banche io mi sono permesso lasciatemi dire un po' di parlare dei mecenati di questo millennio e i mecenati di questo millennio sono le fondazioni pertanto esco un po' di tema probabilmente se avessi dovuto fare il tema qualche mio docente mi avrebbe dato un 4 perché sono fuori tema però io non credo e adesso cercherò di convincermi di non aver sbagliato poi giudicherete voi quindi le fondazioni non sono banche ma sono dei soggetti diversi le fondazioni innanzitutto sono dei soggetti privati lo sono certamente dal punto di vista degli statuti dal punto di vista della legge istitutiva ma lo sono anche nei fatti perché sono dei soggetti che oggi diciamo essere agenti di sviluppo sostenibile e integrati che hanno un obiettivo quello di fare da apripista in settori molto diversi tra di loro e poi di consegnare alcuni dei progetti che realizzano quelli di successo a soggetti che poi riescano a conservarli nel tempo questa è un po' l'idea le fondazioni hanno dei settori di riferimento dei settori di intervento che sono principalmente cinque l'educazione in primis la ricerca l'innovazione le politiche culturali le politiche sociali e proprio la filantropia di territorio bene questa sera ci concentriamo su uno di questi settori che in qualche caso viene identificato col nome di area e quindi parliamo di tematiche collegate all'area culturale voglio dirvi una piccolissima cosa in aggiunta a questo nella realtà le fondazioni sono anche in una fase di profonda trasformazione oggi si sentono un po' strette a parlare di area e quindi come mecenati moderni hanno sempre di più un'attenzione alla trasversalità delle azioni e quindi parlando di cultura per esempio ci sono delle grandi ricadute sul tema sociale sul tema dell'educazione e quindi c'è una revisione complessiva passando da aree agli obiettivi uno dei grandi obiettivi è proprio quello della cultura bene le fondazioni sono 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 88 in Italia di cui 83 sono associate all'ACRI hanno un patrimonio complessivo di circa 40 miliardi di questi 40 miliardi il patrimonio delle prime due grandi fondazioni che sono la fondazione Cariplo e la fondazione Compagnia di San Paolo circa il 35% le prime 10 hanno un patrimonio che è circa il 78% del totale di quei 40 miliardi di cui parlavo prima e questo significa che le 73 che rimangono hanno un patrimonio ridotto circa il 20% del totale in termini erogativi erogano circa un miliardo all'anno sembrano tante risorse ma le attività sono tante che le fondazioni normalmente fanno molte volte ce ne dimentichiamo ce ne accorgiamo quando qualcuna delle fondazioni attive per qualsiasi ragione viene meno a quel punto i territori si rendono conto dell'importanza di un attore un agente di sviluppo di questo tipo gli obiettivi sono quelli di conservare restaurare e valorizzare come facevano i mecenati del rinascimento e naturalmente hanno poi una grandissima attenzione a quello che è l'impatto delle azioni che messono in atto nel corso del loro operare ecco questo è un grafico abbastanza interessante perché rappresenta le erogazioni nell'arco degli ultimi dieci anni le fondazioni in questo arco di tempo hanno erogato circa 3 miliardi con 80.000 iniziative e il 29 circa il 30% delle risorse destinate al settore del totale delle erogazioni che le fondazioni fanno vedete questo è un grafico interessante ma di grande contenuto 80.000 progetti in dieci anni vuol dire circa 8.000 progetti all'anno ed è un motore quel termine che io uso spesso di agente di sviluppo è significato da questi numeri le erogazioni come vedete da questo grafico sono distribuite non sono naturalmente concentrate in una sola attività abbiamo un'attività molto importante sulla conservazione e sulla valorizzazione e una seconda attività altrettanto importante in termini di creazione e di interpretazioni artistiche per darvi un numero che forse è rappresentativo nel corso degli anni circa il 50% delle attività sono state connesse a queste due elementi centrali sono due elementi che si riproducono ma si riproducono ogni anno in modo differente dall'anno precedente questo è una delle capacità delle fondazioni e anche se volete del valore di questi mecenati mecenati moderni ci sono alcuni progetti di sistema che cosa significa significa che ci sono alcuni progetti che non sono delle singole fondazioni ma che sono delle dell'associazione delle fondazioni quindi hanno una valenza nazionale hanno una valenza che si riporta riporta allo stesso tavolo fondazioni molto grandi e fondazioni piccolissime le fondazioni piccolissime hanno un valore veramente quasi superiore a quello delle grandi perché? perché sono delle antenne di territorio e in territori in cui qualche volta manca molto le fondazioni fanno la differenza da questo punto di vista qualche anno fa ho imparato un numero che mi piace ripetere indipendentemente dalla dimensione della fondazione c'è un numero di riferimento che è il numero di euro di capitalizzazione per cittadino del territorio di riferimento e sono circa 1000 euro in alcuni casi sono 900 altri 1100 però il numero medio è pari a 1000 e credo che questo sia abbastanza interessante dal punto di vista diciamo della ricaduta quindi dell'impatto sul territorio naturalmente la differenza fa poi la dimensione del progetto della dimensione dell'intervento però sostanzialmente su ciascuno di noi comunità di territorio abbiamo questa ricaduta che è pari a circa 1000 euro di capitalizzazione le fondazioni sono attente anche ai progetti di sistema pensate a quello che è successo a Venezia nei mesi scorsi e le fondazioni con quella capacità che hanno questi soggetti che sono soggetti veramente un po' diversi rispetto agli altri hanno fatto un intervento in tempi brevissimi pari a circa 2 milioni e mezzo poco meno e adesso si sta definendo quali sono quelle attività che potranno essere parte di questo intervento complessivo tenendo presente che sono risorse già disponibili quindi quando qualche volta ci lamentiamo che poi i tempi di erogazione in questo caso questi mecenati sono capaci di dare risposte estremamente rapide ecco qui ho voluto per concludere perché naturalmente il tempo a disposizione era poco rappresentarvi alcune tipologie di interventi che come vedete sono molti perché sono grandi e piccoli restauri questo è un tema di grande importanza soprattutto in un momento di crisi come quello che sembra essere permanente nel nostro paese i musei le creazioni di reti i festival culturali le mostre la musica gli enti strumentali i distretti culturali quindi vedete che c'è una varietà di interventi che hanno un qualche cosa di eccezionale nel senso che ciascuna fondazione ha una tale relazione col territorio su cui opera che è in grado di identificare con una capacità che non è così comune quali sono le priorità di intervento e da questo punto di vista poi fare un intervento veloce un intervento che in molti casi può fare veramente la differenza volevo allora farvi vedere per esempio alcuni restauri vedete sulla sinistra quel polo meraviglioso che è il polo culturale della Venaria Torino che è stato finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nel 2007 forse qualcuno dei torinesi qua lo ricorda la reggia era stata per anni completamente distrutta non c'era nulla e nell'arco di 4-5 anni ci fu anche lo stimolo delle Olimpiadi in realtà avvenne questo miracolo per cui oggi è veramente un posto eccezionale dall'altra parte se andiamo a Palermo il palazzo Branciforte è un altro esempio di questi interventi ecco nel primo caso è una grande fondazione nell'altro caso che la fondazione Banco di Sicilia è una piccola fondazione ma vedete come entrambe hanno questa loro capacità di intervento i restauri le mura di Lucca sono un'opera veramente meravigliosa che naturalmente ha avuto un impatto sulla città che non ha probabilmente uguali in altre città del nostro paese e il palazzo dei Chiericati a Vicenza per i musei il museo M9 di Mestre questo che è un sogno speriamo che si realizzi completamente certamente le sue difficoltà e dall'altra parte il museo della ceramica di Savona un piccolissimo museo in una via del centro storico di Savona mai sarebbe esistito un luogo così se non ci fosse stato una piccola fondazione che si chiama De Mari e che ha avuto l'intuizione di recuperare questo patrimonio che è parte della storia di questa parte del nostro paese e che si sarebbe perso certamente le reti museali certamente le città e le cattedrali del Piemonte da una parte il Genus Bonogne da Bologna e i piccoli grandi musei della Toscana vedete come sono così diversi ma hanno tutti questo filo rosso di collegamento il festival i festival oggi sono di grande moda qualche volta sembra eccessivo in realtà danno una vivacità ai nostri territori e sembra quasi che li richiamino hanno bisogno le persone hanno bisogno anche di stare insieme di confrontarsi e questa è una modalità moderna di farlo moderna o forse di aver recuperato una tradizione antica le mostre le mostre credo alcune di queste hanno segnato la vita culturale del nostro paese in questi giorni è stata lanciata una grande mostra del barocco proprio qua a Roma nelle tre città tre città che sono tra quelle che più hanno contribuito alla storia del barocco in termini olistici che sono Roma Parigi e Torino e infine la musica la musica è un altro di quegli interventi purtroppo molti dei nostri teatri lirici sono in grandissima difficoltà e questo mecenato è attento tutti mecenati che non sono mai lontani dalla domanda vera sono capaci di fare operazioni di questo genere ecco spero di non avervi deluso non vi ho rappresentato le collezioni perché non sono di proprietà delle fondazioni sono rimaste nelle banche conferitarie quello che la dottoressa Draghi ha menzionato come grandi esempi unicredit da una parte intesa San Paolo e BNL in realtà sono banche conferitarie di fondazioni ebbene hanno conferito risorse in genere ma non hanno conferito se non parzialmente patrimonio questa è la ragione per cui le fondazioni utilizzano una parte delle loro risorse proprio per questo settore della cultura che è un settore fondamentale per il nostro paese grazie molto e buona serata a tutti passo la parola all'avvocato Donato di Banca d'Italia capo del dipartimento immobile appalti e responsabile del patrimonio immobiliare e delle collezioni artistiche della banca bene grazie anche io inizio con un forte ringraziamento alla dottoressa Draghi che mi ha invitato io ho accettato molto volentieri in tempo reale nel senso che lei non aveva finito di dire che le avrebbe fatto piacere una mia partecipazione che io avevo già detto di sì detto questo io non sono un esperto di storia dell'arte però quello che diciamo voglio raccontarvi è una storia la storia della nostra collezione direi una serie di storie che si intrecciano la storia istituzionale della banca la storia del paese la storia di queste opere d'arte la storia di una serie di crisi bancarie che hanno portato la banca a salvare una serie di poco conto di opere d'arte e anche la storia dei nostri palazzi perché noi siamo abituati a aver presente Palazzo Cocca aver presente che la Banca d'Italia è a via nazionale ma dobbiamo considerare che quando la banca più di 120 anni fa è stata costituita come la Banca Nazionale del Regno e poi la Banca d'Italia si trovava in una fase storica nella quale bisognava dare al paese un senso forte istituzionale di stabilità e in qualche modo quasi di educazione finanziaria non c'era la televisione non c'era la radio non c'era nulla di tutto questo c'erano i palazzi e i nostri palazzi sono stati dei potenti veicoli di comunicazione rispetto a questo messaggio messaggio serio istituzionale ma anche messaggio in qualche modo di educazione finanziaria vi faccio un esempio pensate ai saloni del pubblico dove appunto si andava a fare le operazioni non c'era certo non banking a Genova come si entra nel salone se si guarda in alto tutto il salone è affrescato con una serie di episodi della storia economica di Genova e quando io lo guardo mi ricorda una chiesa medievale mi dà l'idea delle storie di Gesù e noi invece abbiamo raccontato la storia economica di Genova come era giusto che fosse e questi edifici della banca in larga misura soprattutto nelle sedi regionali sono ancora operanti ma hanno una particolarità sono essi stessi dei monumenti ma forse più che dei monumenti sono dei luoghi molto vivi nessuno di questi palazzi compreso Palazzo Coc è un palazzo che vive solo della sua storia o vive solo del passato sono tutti sedi di lavoro sedi di incontri e nascondono al loro interno anche degli elevati livelli di tecnologia quindi hanno una caratteristica particolare sono un po' dei musei un po' delle collezioni dei luoghi dove sono delle collezioni d'arte un po' dei luoghi tecnologicamente molto avanzati e dei luoghi dove si vive quotidianamente un'attività istituzionale e detto questo parlando dei palazzi voglio cominciare a dirvi una cosa che forse è poco nota e che anche a me ha colpito quando ho iniziato a studiarla la prima vocazione della Banca d'Italia dal punto di vista proprio se volete di presenza nel territorio e nel paese è stato l'episodio la grande direi avventura della ricostruzione di Roma capitale in cui la Banca d'Italia si è trovata alla fine dell'Ottocento a gestire un patrimonio immobiliare sterminato a motivo della crisi della Banca Romana e di una serie di altre banche con il risultato che adesso raccontano un piccolo episodio il primo direttore generale della Banca d'Italia era un ingegnere e il servizio che ha una storia più lunga all'interno della Banca d'Italia alle sue spalle il servizio immobili che è nato nel 1893 ed è tuttora funzionante gran parte della città di Roma è stata costruita su territorio attraverso immobili che erano di provenienza di questi fallimenti di queste banche e che sono stati gestiti per una dozzina d'anni dalla Banca d'Italia lavorando con il comune per dare a Roma un assetto urbanistico e per dare praticamente alla città un volto anche di città moderna e non posso entrare in dettagli ma pensate che tutti i quartieri che noi siamo abituati a considerare i quartieri principali e più importanti di Roma hanno comunque un'impronta da San Lorenzo a Prati dal cinema Adriano a Piazza Cavur e così via e tutta la ricostruzione di via nazionale e qui ci colleghiamo immediatamente con il discorso dell'arte perché la collezione d'arte della Banca d'Italia nasce con gli scavi che sono stati fatti per la costruzione di Palazzo Koch e con la scoperta di un'enorme quantità di reperti archeologici alcuni dei quali straordinariamente importanti che hanno avviato la collezione archeologica della Banca quello che vedete lì è l'antino molto importante dal punto di vista sicuramente della storia dell'arte e che è il primo oggetto che si vede entrando a Palazzo Koch ha delle particolarità molto forti tra cui la circostanza che ha le gambe rovinate sostanzialmente mentre il resto del busto e anche del viso e del collo è stato sempre lì non è stato mai diciamo non si è mai dovuto fare un intervento di ricostruzione le gambe sono rovinate perché probabilmente in epoca cristiana la statua era stata considerata come appunto una divinità pagana e buttata in un fiume successivamente recuperata in periodo medievale quindi quando abbiamo fatto quando hanno fatto gli scavi Palazzo Koch è riemersa e per chiudere sul discorso della parte immobiliare pensate che quando finalmente la banca è riuscita a risistemare questo enorme patrimonio immobiliare ha proceduto in un periodo molto breve in tre anni alla vendita di un'enorme quantità di immobili che appunto hanno determinato in pensate in solo tre anni un introito di 100 milioni di lire dell'epoca e corrispondono a quasi mezzo miliardo di oggi tornando sempre a questi rilevamenti archeologici abbiamo praticamente la tutela di Rodolfo Lanciani in tutta la fase diciamo degli scavi con una guardia delle antichità che era lì a vedere tutto quello che veniva recuperato ma dell'epoca purtroppo non abbiamo moltissime informazioni sostanzialmente perché quello che veniva recuperato veniva considerato reperti consueti quindi adesso ci sono stati tutta una serie di approfondimenti e di studi per recuperare la storia anche di tutti su questo tema voglio segnalarvi un altro aspetto diciamo interessante in banca abbiamo una buona collezione di testine fittili in realtà la banca le ha acquisite per una serie di eventi fortunosi negli anni 20 e circa 500 di queste sono state poi successivamente donate al museo nazionale romano e ne abbiamo ancora 35 quelle che vedete lì quello che mi piace di segnalarvi è che questa piccola collezione è stata prima esposta a Palazzo Cocche e al momento è esposta nel nostro centro elettronico a Tor Vergata il centro Donato Menichella dove accanto a quella che è un'attività tipicamente elevatissimo a livello tecnologico pensate che praticamente tutto il sistema delle transazioni finanziarie anche dei bonifici istantanei di tutta Europa passa per questo centro contemporaneamente c'è una piccola ma non marginale collezione di opere d'arte come questa e anche altri oggetti c'è un'enorme diciamo opera di pomodoro all'ingresso della banca e una lunetta di dazzi all'esterno ma soprattutto quello che voglio comunicarvi è che anche in questa struttura assolutamente moderna e tecnologica ripeto è una delle strutture strategiche per l'intero paese proprio per la sua funzione e l'arte è molto presente e tra i reperti che sono stati ritrovati via via vi segnalo anche questo recente ritrovamento che è avvenuto nella ristrutturazione a via quattro fontane di un grande edificio che era in passato dell'ufficio italiano dei cambi nella costruzione diciamo in particolare di quella che sarà la futura mensa è stata trovata i residui i resti di una villa romana probabilmente del fratello dell'imperatore vespasiano con questi pavimenti fitti pavimenti marmore scusate che sono stati già recuperati e restaurati e ora sono esposti sempre nel nostro centro elettronico in vista di ritornare a quattro fontane e qui diciamo un po' la particolarità è che i colleghi del servizio immobili diciamo con questa lunga storia alle spalle hanno costruito attraverso diciamo una ricostruzione in 3D quello che verosimilmente erano gli ambienti e l'intero pavimento dell'epoca questo perché diciamo una sensibilità che stiamo portando avanti è quella dell'uso della tecnologia non solo negli edifici quindi nelle ricostruzioni attraverso il BIM e la modellazione elettronica ma anche rispetto a quello che possono essere opere d'arte il nostro pezzo forte è sicuramente l'eredità che abbiamo avuto della collezione di Riccardo Gualino questa è interessante questo aspetto sia perché come vedete lì abbiamo Monet abbiamo Spadini abbiamo tantissimo materiale ma soprattutto quello che mi fa piacere ricordare che questa collezione ma direi di più Riccardo Gualino sono caduti nel corso degli anni in una vera e proprio nebbia sarei tentato di dire una sorta di damnazio memoria questo perché Gualino che è stato uno straordinario imprenditore italiano sicuramente molto azzardato e molto rischioso secondo anche i canoni moderni ha costruito attraverso proprio la sua personalità e la moglie che è stata un personaggio Cesarina Grugosali c'è un personaggio straordinario una collezione d'arte incredibile che spazia veramente in moltissimi aspetti dell'arte dell'arte antica e contemporanea e lì c'è un Modigliani ma purtroppo i sette Modigliani che facevano parte di questa collezione sono entrati nella liquidazione dell'impero finanziario di Gualino quando nel 29 più esattamente nel 30 e il fallimento delle sue banche e delle sue imprese l'ha portato poi ad essere confinato all'Ipari per anche la forte ostilità da parte di Mussolini che diciamo lo aveva definito cagliostro della finanza e dell'economia ma questo personaggio poi è ritornato ha fatto veramente di tutto nel mondo imprenditoriale italiano mi piace ricordare soprattutto la lux cinematografica nel dopoguerra e i film del neorealismo sono usciti dalle sue produzioni per la Banca d'Italia questa è stata una storia un po' nascosta un po' celata anche se nel nostro archivio storico c'è memoria e traccia di tutti i passaggi sia delle opere sia della storia del fallimento di Gualino delle sue banche e di tutto quello che ha comportato la liquidazione e una eredità molto forte che adesso rapidamente poi vi farò vedere ecco è questa è la collezione d'arte orientale questo è qualcosa di veramente eccezionale perché Gualino all'epoca negli anni venti riuscì appunto ad acquisire una serie di capolavori dell'arte orientale cosa che poi come voi ben sapete non è stato più possibile negli anni successivi a maggior ragione nel dopoguerra nel quale la Cina in particolare è rimasta fortemente chiusa rispetto ai movimenti delle opere d'arte e detto tutto questo della collezione Gualino ecco queste sono ancora altre opere poi dopo vi racconterò dove sono al momento e c'è questo episodio straordinario terribile dell'arrivo della collezione orientale da Torino a Roma con l'incendio diciamo l'esplosione del camion che trasportava queste opere e la distruzione di alcune di esse ma soprattutto la storia di uno dei due grandi leoni di pietra che appunto ora sono a Palazzo Koch ne vedete uno lì sono proprio negli ambienti diciamo più di rappresentanza delle banche uno dei due era esploso ed è stato ricostruito faticosamente più di 4.000 pezzi sono stati raccolti e hanno portato alla ricostruzione di questo con un vero accanimento devo dire che è una verità dopo la guerra anzi o meglio superato un po' il periodo della guerra dove i nostri palazzi sono stati oggetto come tanta parte del paese di distruzioni con episodi anche abbastanza avventurosi come la sede di Palermo nella quale è rimasto in bilico una bomba di aereo per parecchio tempo tra i piani oppure sempre a Palermo una gigantesca ancora che è stata proiettata da un'esplosione dal porto a 800 metri di distanza in quegli anni la banca ha anche tutelato una serie di opere d'arte come per esempio a Messina e ospitandole nei propri cavò poi faticosamente come tutto il paese nel dopoguerra abbiamo ricominciato ad acquistare delle opere d'arte come quella Corinna di Canova e piano piano siamo entrati un po' in un ordine di idee che è stata quello di una trasformazione del nostro approccio fino appunto direi agli anni 80 l'idea era di acquistare opere d'arte per tenere negli uffici di rappresentanza e quindi girando per Palazzo Coch si vedono una serie di opere che sembrano siano state sempre lì sia in parte provenienti dalla collezione ugualino sia da queste acquisizioni nel primo dopoguerra dopodiché dagli anni 80 è entrata una logica completamente diversa è quella delle acquisizioni di opere di autori italiani per in qualche modo costruire una collezione relativa appunto alle opere di autori italiani in particolare degli anni 50 e 60 questa degli anni 50 e 60 è stata la prima iniziativa che abbiamo fatto come Banca d'Italia non molti anni fa per trasformare il nostro approccio dalla conservazione alla valorizzazione è stata costruita in maniera devo dire artigianale una mostra e appunto anni 50 e 60 eccola qui altre stanze nella quale la Banca ha messo in fila una serie di proprie opere e soprattutto con l'idea e con l'approccio di collegare questo periodo artistico alla storia dell'Italia di quegli anni e la storia di un paese che insomma sapete bene usciva dalla guerra cercava di recuperare ricchezza gioia felicità anche libertà però in un mondo che era anche molto contrastato e le opere d'arte di quel periodo ne danno conto noi abbiamo costruito questa mostra che è stata in quattro città Frascati Latina Bari e Palermo cercando di collegare appunto le opere di quel periodo alla storia di quel periodo anche perché questa mostra è stata molto utilizzata dalle scuole per portare appunto gli studenti a visitare una una collezione d'arte ma al contempo anche a conoscere e insomma avere occasione di studiare la storia del nostro paese del dopoguerra proseguendo in questo racconto diciamo ancora veramente per pochissimi minuti in questa fase si sono verificate una serie di iniziative molto interessanti la prima è stata sicuramente la costruzione del museo virtuale al quale faceva cenno anche la dottoressa Draghi e il nostro è raccolta e riporta tutta la raccolta ma anche per periodi e per argomenti tematici quindi è un po' una mostra virtuale e anche un po' un'occasione di studio e un aspetto che voglio segnalarvi è che abbiamo dato grande importanza ai video sappiamo bene che non è una cosa molto originale nel senso che di docufilm nel campo dell'arte ce ne sono tantissimi noi abbiamo costruito nei nostri palazzi una rete di video che sono negli spazi diciamo aperti al pubblico di schermi su questi schermi proiettiamo costantemente una serie di video sulle iniziative nel campo dell'arte che facciamo quindi in qualche modo i nostri colleghi i visitatori dei palazzi girando per i palazzi vedono le opere d'arte ma vedono anche questi video uno ve lo faremo vedere dura un minuto quindi veramente molto poco alla fine di questo mio intervento perché in qualche modo ci sembra che a questo punto attraverso questi video è possibile veramente diciamo comunicare e anche incentivare in qualche modo l'attenzione verso alcuni aspetti interessanti un aspetto diciamo su cui ci sono i due video sicuramente è questa curiosa e fortunata vicenda del rapporto tra la banca e Giacomo Balla la banca ha acquistato otto opere di Balla appunto intorno agli anni 90 e sostanzialmente a un certo punto si è sentita in dovere di intervenire per aiutare gli eredi Balla e anche la sovrintendenza competente a un'operazione di messa in sicurezza di Casa Balla Casa Balla è qualcosa di straordinario diciamo a vederla veramente diciamo ci si commuove perché si vede quella che è la vita di questa famiglia e pensate che lì è tutto affrescato è tutto dipinto in stile futuristico scusatemi se scendo in un dettaglio diciamo poco onorevole perfino lo scopino nel bagno è un'opera d'arte e tutto quanto fatto diciamo a mani di Giacomo Balla la banca è intervenuta per mettere in sicurezza questo appartamento che era in situazioni di difficoltà e lo ha messo in sicurezza adesso diciamo si aspetta l'evoluzione futura rispetto alla sistemazione dal punto di vista diciamo storico culturale e anche di restauro di una notevole quantità di carte e quindi di bozzetti e di documenti che sono presenti e che sono diciamo a cura della sovrintendenza archivistica ma la cosa divertente che vi voglio segnalare è che mentre noi stavamo facendo questo intervento per appunto aiutare ieri di Balla a mettere la casa in sicurezza e abbiamo iniziato un altro lavoro in un nostro stabile che è esattamente a via Milano via Milano sotto Villa Uffer che è quell'edificio all'angolo di fronte al Palazzo delle Esposizioni è destinato a sorgere un museo non un museo nel senso semplicemente artistico ma un museo finalizzato all'educazione finanziaria e finalizzato appunto a un museo dell'economia come molte banche centrali hanno mentre lavoravamo ci siamo ricordati che in uno dei piccoli edifici negli anni 20 e 21 era stato ospitato uno dei due cabare diciamo dedicati al jazz degli anni 20 il Baltic Tac che giustamente era stato affrescato da Giacomo Balla e abbiamo iniziato con molta prudenza a ripulire il tutto è uscito un affresco di Balla di 90 metri quadri io sono un po' forse napoletano da questo punto di vista sono sicuro che ce l'ha fatto comparire Balla per riconoscenza del fatto che gli avevamo sistemato la casa e adesso con moltissima cura lo stiamo restaurando sono 90 metri quadri e l'impressione è molto forte detto questo io mi fermo perché forse ho detto anche troppe chiacchiere troppo tempo ah no questo non posso fare a meno di dirlo perché è anche un po' un invito della collezione Gualino quando siamo tornati da questa mostra che abbiamo fatto con i musei reali a Torino che è quella che vedete diciamo in queste foto abbiamo il 28 aprile inaugurato alla presenza del ministro Franceschini due sale che sono a Palazzo Coc le vedete lì dove c'è raccolta la collezione di arte orientale di Gualino e ora della Banca d'Italia la particolarità è che per la prima volta a Palazzo Coc ci sono degli ambienti dedicati esclusivamente al pubblico non sono ambienti di rappresentanza dove ci sono delle opere d'arte ma sono due ambienti dove ci sono opere d'arte ed è un piccolo museo su Palazzo Coc se torniamo indietro con la slide stiamo facendo un'operazione un po' azzardata perché stiamo mettendo molte opere moderne di autori diciamo soprattutto italiani contemporanei quelle che vedete è una cosa molto azzardata della quale ero molto preoccupato ma poi si è trasformato fortunatamente in un successo quello è lo scalone d'onore che per noi è il Santa Sanctorum ed è rimasto così fermo per 120 anni e abbiamo fatto questa installazione di queste opere di Fabio che è un autore romano contemporaneo che danno un tocco leggiadro sicuramente ma devo dire per la nostra tradizione un po' azzardato il risultato però è stato assolutamente positivo e credo che resteranno lì detto tutto questo fare partire questo rapidissimo video su il Baltic Tac per chi ha curiosità su Youtube si trova anche un video sempre fatto dalla banca con riguardo a Casa Balla che è forse un po' più struggente perché appunto c'è le immagini di questo pittore detto tutto questo è chiaro che la sintesi è semplicemente questa noi facciamo tutto il possibile in una logica di apertura al pubblico perché le opere d'arte sono state fatte per essere viste dal pubblico e non conservate semplicemente negli uffici questo è l'edificio del Baltic Tac a via Milano queste sono le ricerche che abbiamo fatto sul era pubblicato anche un libro diciamo e questo è l'affresco che abbiamo trovato un po' più straccio e questo è un po' più straccio e questo è tutto grazie per l'attenzione grazie e cedo la parola al professor Comin fondatore nel 2014 della società Comin & Partners una società di consulenza di comunicazione di relazioni istituzionali e docente alla LUIS alla facoltà di economia di strategia della comunicazione se non sbaglio giusto grazie 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 dottoressa Draghi grazie anche a Fabiana Di Donato e a Lida Tua per l'invito e complimenti per questo avvio diciamo di una stagione di approfondimento su questi temi che sempre se ne parla poco ed è uno dei motivi forse per cui le imprese investono anche poco in questo perché oggi cercherò di far capire quali sono i ritorni che un investimento e un impegno in questo caso delle banche ma di tutte le imprese nella cultura possono avere anche un ritorno misurabile che è quello che oggi chiedono i consigli di amministrazione quando i manager vanno a chiedere dei soldi per finanziare una mostra o per al di là delle fondazioni che hanno questo nella loro missione primaria partirei da una recentissima ricerca di un mese e mezzo fa realizzata da Civita peraltro nella quale si è chiesto a alcuni centinaia di manager e di imprenditori forse se riusciamo a far partire la presentazione riusciamo anche a vedere i dati quali erano i motivi per i quali investono quali sono i motivi per i quali investono in cultura in cultura in generale quindi non non solamente nell'arte o nelle mostre ma nelle varie iniziative beh la prima risposta la più numerosa è l'opportunità di relazione con le istituzioni cioè le imprese investono nel sponsorizzare o nel promuovere iniziative culturali perché queste aiutano a mettere in contatto l'impresa stessa con i decisori quindi aiutano ad accelerare quella relazione che è fondamentale per la maggior parte delle imprese la seconda però anche perché aiutano a intercettare dei target cioè dei gruppi di persone che altrimenti con strumenti di comunicazione diversi non si riescono ad intercettare guardate quando si oppone un marchio ad una mostra o a un catalogo o a una manifestazione culturale o a una manifestazione musicale la persona come dire si interpreta quel marchio con i valori che la manifestazione culturale porta e quindi aiuta ad alzare in maniera veloce diciamo quelli che sono l'identità o che sono le missioni o i valori dell'azienda non riusciamo a mettere la presentazione stiamo lavorando gli altri criteri per i quali si investe in cultura è certamente la visibilità del marchio questo spesso è uno dei punti di grande contrasto che ho fatto il manager per molti anni tra chi propone diciamo un'attività culturale e chi la deve sponsorizzare chi la propone cerca di nascondere il marchio a pagina 12 del catalogo o in piccolo nel manifesto ovviamente chi invece vuole sponsorizzare quella manifestazione vuole esaltare quel marchio per il motivo che dicevo prima perché quando la manifestazione culturale è di grande valore si trascina porta con sé tutti quei aspetti positivi li trasferisce sul marchio e sull'immagine dell'azienda che sponsorizza e quindi il tema della reputazione e dell'immagine è fondamentale se pensiamo poi a un'altra ricerca ma anche questa abbastanza recente sullo stato della corporate reputation è una ricerca condotta su 20 paesi e ha interrogato circa 2500 dirigenti di grande azienda tra i fattori che contribuiscono maggiormente alla reputazione dell'azienda nei primi 25 ci stanno la corporate culture la corporate purpose la community relation e la filantropia e la charity quindi insomma tutti aspetti che riguardano l'essere dell'azienda il suo modo di rappresentarsi tutte quelle attività che costruiscono dall'immagine costruiscono poi la reputazione che consente al pubblico ai clienti agli stakeholder dell'azienda di rendere come dire maggiormente vicina l'azienda alla loro vita però se guardiamo quali possono essere i vantaggi che un'attività di supporto alla cultura possono portare alle aziende ce ne sono alcuni che credo debbano essere tenuti in conto soprattutto da chi propone le sponsorizzazioni la prima è certamente la prossimità a differenza di tante attività di comunicazione pensiamo a pubblicità piuttosto che le attività più tradizionali la sponsorizzazione il contributo chiamiamolo dell'impresa alle attività culturali mostrano un contributo concreto verso il territorio e verso le persone che lì risiedono questo riguarda in particolare come diceva il professor Profumo le fondazioni ma non solo perché la relazione tra l'impresa e il territorio è fondamentale per riconoscere diciamo così quella che è l'identità della presentazione che le slide si stanno caricando un problema tecnico vabbè tanto mi seguite poi chi le vuole le potrà richiedere vero mi avete creduto questo tipo di attività poi stabiliscono un dialogo fattivo tra l'azienda e gli opinion leader ovviamente chi partecipa alle attività culturali è un cluster di popolazione che all'azienda è molto interessante perché sono un cluster di popolazione altospendente spesso colta spesso attenta alle novità all'innovazione e quindi sono quella parte dei clienti o degli stakeholder che comunque fanno crescere la reputazione dell'azienda la seconda elemento appunto di un'attività di questo tipo è certamente la relazione con i propri target i target sono differenti da azienda azienda ma ognuno cerca di trovare nel suo pubblico un suo pubblico particolare delle attività con le quali entrare in relazione entrare in sintonia e certamente l'investimento nella cultura attiva un sistema valoriale che altrimenti si disperderebbe io ricordo negli anni in cui ho lavorato in Enel dopo l'internazionalizzazione alla ricerca di un acceleratore di immagini e di valori sull'internazionalità e l'innovazione si è lavorato a un programma chiamato Enel Contemporanea di valorizzazione dell'arte contemporanea perché l'arte contemporanea associata al marchio avrebbe trasferito in maniera immediata questi valori di internazionalità e di innovazione a differenza di altre quindi l'azienda deve cercare di rendere coerente i suoi missioni i suoi obiettivi a quelle che sono le attività di sponsorizzazione o di produzione culturale che devono realizzare certamente l'attività nella cultura aiutano anche a costruire una cultura della corporate cioè a migliorare il rapporto con i propri dirigenti i propri dipendenti molte aziende molte banche ma anche la Banca d'Italia abbiamo sentito poco fa espongono le loro opere d'arte all'interno non solo degli ambienti di rappresentanza ma anche dove vivono i dipendenti perché questo come dire aiuta a migliorare la relazione a rendere i partecipi di una missione e di una visione di valori che in qualche modo queste opere rappresentano anche soltanto la storia accumulata l'accumulazione di queste opere nel tempo in qualche modo testimoniano della vita di questa impresa nelle diverse epoche e quindi trasferiscono ai propri dipendenti questi valori e questa missione il lavoro che noi facciamo quando nelle aziende identifichiamo dei progetti che abbiano quelle caratteristiche che dicevo prima sono essenzialmente di attirare attraverso queste attività di supporto alla cultura del pubblico del pubblico che da estraneo diventi un visitatore cioè si renda consapevole dell'esistenza di una relazione tra l'azienda e l'attività culturale perché poi da visitatore può essere convertito in un contatto in un contatto che resta in relazione con l'azienda a lungo termine non solamente per il periodo della visita o del concerto o dell'attività diciamo culturale che resta perché l'obiettivo finale è fidelizzare questo contatto fidelizzare questo rapporto tra l'azienda e il suo stakeholder e certamente la cultura aiuta a farlo con maggior facilità c'è un aspetto che soprattutto per le grandi aziende sta diventando dominante è quello della diplomazia culturale lo è da sempre per i governi l'Italia su questo gioca un ruolo anche inconsapevole molto forte però sempre di più le aziende usano la cultura per penetrare nuovi mercati le grandi multinazionali usano il cinema usano l'arte usano la musica per portare nei paesi in cui sono un pezzo del patrimonio anche valoriale che il paese rappresenta e sul quale vogliono in qualche modo mettersi in relazione questo per la moda per esempio è abbastanza diffuso diffuso per il corporation per esempio sulla musica per i paesi arabi il portare la scala e accoppiare la sponsorizzazione a attività musicali importanti di grandi enti italiani è un patrimonio che trasferisce immediatamente la relazione tra l'azienda e il paese ospitante viceversa io sono un consigliere a Biennale di Venestia per esempio la Biennale è un grande attrattore di diplomazia culturale perché l'esposizione d'arte biennale per esempio attira 650.000 visitatori che vengono da decine e decine di paesi nel mondo e quindi in questo caso Venezia gli sponsor della Biennale la Biennale stessa diventano dei testimoniali importantissimi di qualità e di innovazione andando alle conclusioni quindi se caricate la presentazione ora la leggerà l'amico Beretta la usa l'amico Beretta il collezionismo l'arte la cultura rappresentano certamente la strategia con cui comunicare all'esterno valori interagire con i stakeholder interagire con i target garantisce un'ampia e importante visibilità ma soprattutto è uno dei tasselli fondamentali di una costruzione di una reputazione che è diversa dall'immagine come sapete e che consente che la relazione tra le persone tra i clienti tra i stakeholder e l'azienda sia permanente a lungo termine non solo episodica in alcuni casi come è stato il caso per esempio di Deutsche Bank aiuta a far cassa hanno venduto un bel po' di opere d'arte accumulate negli anni e magari ricominciare con nuove acquisizioni di patrimonio più aggiornato l'Italia ed è l'indice spectator di qualche giorno fa l'Italia è il primo posto tra i paesi con maggiore influenza culturale al mondo secondo c'è la Francia il terzo la Spagna e quindi io credo che noi dovremmo lavorare veramente per rendere più sinergico il rapporto tra le imprese le attività culturali e il nostro paese no è finito e il nostro paese c'era e il nostro paese perché in questo modo si creerebbe valore per tutti per le imprese che investono per le attività culturali che vengono supportate e anche per il paese che come dire pur essendo riconosciuto al primo posto tra i paesi che influenzano nell'ambito della cultura spesso si guarda con uno specchio che deforma e che ci rappresenta peggio di come siamo grazie per l'attenzione passo ora la parola al professor Beretta presidente della fondazione Unicredit e direttore responsabile delle relazioni istituzionali e internazionali del gruppo Unicredit Grazie mille io mi ero preparato sulle slide di Comin però vedo che non quindi vediamo di fare qualche cosa diciamo ad integrazione intanto ringrazio moltissimo tutti quanti a cominciare ovviamente dalla professoressa Draghi per questo invito e soprattutto la ringrazio perché diciamo nella sua straordinaria introduzione ha già come dire dato un profilo molto preciso di quello che sono diciamo gli impegni la storia e diciamo gli sviluppi delle cose che stiamo facendo è evidente noi siamo un gruppo che quest'anno di fatto come dire toccherà i 150 anni di storia siamo una delle poche banche diciamo davvero paneuropee abbiamo come dire presenza con banche commerciali di reti quindi con reti in 14 paesi europei ovviamente operiamo in molti altri ma su questo abbiamo un radicamento forte sul territorio tre di questi che sono appunto Italia dove comunque abbiamo la parte principale dell'attività la Germania e l'Austria diciamo avendo costruito questo gruppo attraverso fusioni attraverso diciamo come dire integrazioni progressive e si sono sommate effettivamente le tradizioni le storie cioè l'impegno nel corso diciamo dei decenni di queste realtà che hanno dato vita a questa raccolta perché oggettivamente per come è nata è difficile definire la collezione nel senso che è stata un po' una miscellanea di sforze di storie diverse che si sono ritrovate tutte insieme oggettivamente gestire 60.000 opere d'arte ovviamente non sono tutti canaletto però diciamo comunque è un impegno importante è un impegno che ovviamente come dire ha avuto nel tempo tanti aspetti positivi poi come dire noi pensiamo anche che debba evolvere e debba evolvere in una in una fase in cui diciamo il gruppo ha pensato di focalizzarsi diciamo negli impegni che sono stati anche descritti e ricordati soprattutto dal presidente Profumo ma non solo diciamo in un impegno a vasto raggio che tiene insieme l'impegno nell'arte l'impegno nella filantropia l'impegno nella solidarietà l'impegno soprattutto diciamo ad aprire mondi e accessi diciamo al credito a figure posizioni persone realtà che altrimenti ne sarebbero escluse questo è il nostro diciamo progetto ormai è un programma avviato di Social Impact Bank è un progetto potremmo dire un'attività bancaria dentro la banca che lavora fondamentalmente su tre pilastri di attività educazione finanziaria nelle scuole in base ad un accordo che abbiamo con il ministero competente attività di microcredito e l'attività di microcredito si sta rivelando in Italia ma non solo una risposta ad una domanda fortissima voi sapete che il microcredito è definito a livello europeo come diciamo un presto che in ogni caso ha un tetto a 25 mila euro quindi è un diciamo un meccanismo di finanziamento che apre a piccole iniziative di self-employment a piccole iniziative diciamo imprenditoriali ma soprattutto si caratterizza diciamo per ripeto consentire l'accesso al credito a figure che altrimenti o perché non hanno storia creditizia o perché non hanno punto 3 o perché non hanno diciamo possibilità di affidamento non avrebbero questa possibilità solo per dare un'idea noi in un anno di attività in Italia della Social Impact Bank avendo per l'Italia in realtà una richiesta media che è un po' più bassa rispetto al tetto europeo di circa una media di circa 20 mila euro abbiamo erogato microcredito per circa 50 milioni di euro questo dà l'idea di come diciamo questo tipo di motore può impattare sulle piccole attività sulla capacità dei giovani di avere iniziative imprenditoriali che in questa fase hanno diciamo credo un ruolo sociale molto importante l'altra l'altra gamba una gamba più impegnativa è il finanziamento di progetti ad impatto sociale molto più significativi che hanno ovviamente assorbito anche le loro risorse anche più importanti e che come dire noi misuriamo sulla base diciamo dell'impatto sociale che riescono a generare ed è come dire anche qui un meccanismo di attività molto come dire rotondo perché va che ne so dalle case famiglie per famiglie disagiate per donne abbandonate a un progetto a cui siamo molto molto affezionati mi piace un laboratorio per la produzione di tortellini che abbiamo finanziato a Modena e insieme a grande chef Bottura dove come dire la produzione di questi tortellini è assicurata da un gruppo straordinario fantastico di ragazzini con disabilità autistica e che hanno come dire intanto trovato un grande impegno in questa attività e hanno come dire la capacità di fare un prodotto di incredibile di straordinaria qualità tant'è vero che la produzione di questi tortellini è prevenduta per 18 mesi quindi questa dall'idea di come questi vecchi perché sono partito da questo perché un pezzetto di questa diciamo costruzione soprattutto nella sua dimensione internazionale perché dall'inizio di quest'anno diciamo dalla fine 2019 abbiamo esportato questo progetto di social impact bank in altri 11 paesi europei abbiamo deciso che un pezzetto di questa diciamo attività fosse finanziata con diciamo la rinuncia alla messa sul mercato a una piccola parte della nostra della nostra collezione d'arte quindi vorrei essere chiaro su questa decisione la banca in quanto tale cioè nei conti della banca non arriva un centesimo e non vogliamo che arrivi un centesimo riteniamo che un pezzetto come dire anche simbolicamente di questo meccanismo vada la parte più importante è a finanziare questa attività di solidarietà che si sposa secondo noi con questo tipo di presenza poi farò un altro esempio un'altra declinazione e che deve essere sempre più collegato per rendere diciamo più forte la radice il radicamento e la capacità di efficienza della banca in questi settori a forte diciamo attenzione sociale un pezzetto invece sarà riutilizzato dentro diciamo il grande mondo dell'arte non a caso questo progetto che è stato ripeto varato approvato dal Consiglio dell'amministrazione e partito diciamo nella sua operatività ha come nome Art for Future nel senso che vuole incorporare l'idea che diciamo questo patrimonio non voglio dire sterminato ma certamente molto importante non può essere visto soltanto in maniera statica ma riesce come dire in parte a come dire rilanciare sul futuro a fare consentire investimenti sugli artisti più giovani e a rendere diciamo in qualche modo più contemporaneo e più collegato diciamo alla società questo sforzo complessivo che la banca fa che fa anche come sono state citate altre declinazioni di arte penso noi siamo ormai da molti anni diciamo il così come brutto termine che non mi piace ma diciamo il main sponsor della filarmonica della scala in realtà di fatto siamo il vero partner operativo della filarmonica della scala e una delle cose più importanti che si sposano con se Gianluca puoi far partire la diapositiva quella sulla parte diciamo che si sposano come diceva in cui abbiamo un forte una promozione del marchio nell'abbinamento a un marchio straordinario come la filarmonica della scala ma io penso che una delle cose più importanti che siamo riusciti a costruire in collaborazione con la filarmonica sono certamente una serie di concerti internazionali che hanno portato il marchio di Unicredi nel mondo ma anche una posso dirla così una piccola invenzione che è stata quella di aprire l'ultima prova prima dei concerti noi chiamiamo prove aperte come dire ad inviti che noi facciamo ad associazioni ripeto onlus associazioni benefiche associazioni filantropiche che hanno sia un piccolo beneficio diciamo di contributo ulteriore alla nostra che avviene attraverso la vendita dei biglietti e nello stesso tempo consente invece per altri settori di portare anche qui soggetti che non avrebbero come dire facilità ad avere questo tipo di contiguità e di esperienza che è quello come dire di assistere di partecipare a questi concerti della filarmonica della scala questo quindi è un pezzo che noi vediamo come dire importante nel ruolo che la banca deve giocare che è un ruolo che ovviamente guarda alla sua attività core il sostegno e l'aiuto alla promozione e la crescita dell'economia nelle quali è radicata in una che guarda però nello stesso tempo alla promozione all'attenzione diciamo dei più deboli dei meno favoriti e che rappresentano anch'essi uno straordinario motore per una crescita che tutti quanti vogliamo abbiamo cercato di articolare gli strumenti e quindi i meccanismi citavo prima la social impact bank che lavora secondo un principio che noi ci siamo dati in cui diciamo che non vogliamo da quelle attività nessun ritorno diciamo sul nostro capitale ma vogliamo vogliamo avere nel tempo 20-30 anni diciamo con un meccanismo che aiutiamo noi a costruire il ritorno del capitale proprio perché così il fondo rotativo consente di avere diciamo sempre più risorse ma in realtà il vero obiettivo è di aiutare tutti questi soggetti a costruirsi dei business plan che siano credibili che siano sostenibili nel tempo e per questo abbiamo dato vita ad un'associazione di volontari tra persone che lavorano ancora nella banca persone che sono andate diciamo in pensione o che hanno deciso di fare altro e che hanno dato vita a questo diciamo associazione unigence di volontari puri che assistono che insegnano nelle scuole assistono diciamo tutti questi operatori nella costruzione di business plan credibili poi però riteniamo anche che ci siano settori in cui invece non basta la concessione di credito seppur favorevole serve ancora quello che si chiama il grant quindi il fondo perduto e questo invece è il compito che assume la fondazione unicredit che è una fondazione non delle dimensioni non dell'importanza di quelle che gestisce il presidente il presidente profumo è una company foundation che però utilizza parte degli utili del gruppo per affini appunto filantropici e di ricerca accademica quindi io penso che noi dobbiamo essere lo dico come banca molto grati a chi prima di noi ha costruito questo straordinario patrimonio spesso come dicevo arrivato con storie diverse dobbiamo certamente utilizzarlo al meglio siamo convinti che nel miglior utilizzo di questo di questo meccanismo diciamo il progetto Art for Future ha un significato molto importante chiudo con una citazione del tutto personale io avevo nell'ufficio di Milano prima di questa dei dongi a cui ero anche diciamo affezionato che sono importanti oggi ho tre grandi fotografie che vengono moltissimo apprezzate di una quindi di un artista rifugiato che ha partecipato ad un'iniziativa che abbiamo condiviso con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati alla Biennale di Venezia il titolo era Rochko in Lampedusa dove alcuni di questi artisti rifugiati hanno potuto esporre delle opere poi noi alcune le abbiamo commissionate le abbiamo acquistate molte sono state presentate ad Artissima a Torino in modo da dare loro anche questo tipo diciamo di opportunità e di palcoscenico e oggi l'idea di avere comunque come dire un qualche cosa che forse è meno conosciuto certamente meno riconosciuto ad esempio dei dongi che avevo prima ma avere il senso che abbiamo potuto con questo progetto aiutare in questo caso è un artista ivoriano si chiama Keita che ad affermarsi ad avere delle opportunità che altrimenti avrebbe avuto con molto maggiore difficoltà credo che ci dia a tutti il senso di come oggi l'attenzione alla cultura l'attenzione alla società l'attenzione alle componenti meno fortunate meno favorite debbano essere un tutt'uno e debbano generare un progetto che questo sì io credo aiuti la banca e le banche ad essere percepite come davvero un soggetto molto equilibrato per lo sviluppo e per la crescita del paese e per la crescita aggiungo di valori nei quali noi crediamo in maniera molto molto profonda grazie mille per l'attenzione e grazie ancora per me grazie 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 a tutti i relatori grazie anche a tutti i presenti per essere qui così numerosi e vi renderemo noto il prossimo appuntamento di questa serie di conversazioni vi posso solo anticipare che la prossima sarà sulle raccolte degli istituti nazionali che come ho detto sono assolutamente non conosciute e in realtà sono rilevanti grazie buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti